Salve ragazzi, sono il vostro amico e tutor dei videogiochi, mi chiamo Gabriosta. Dopo aver fatto quel mini gioco di schivare tutte le frecce dell'arciere freccia verde, ora se riusciremo a sconfiggerlo, Raven non lo controllerà più. Se non avete notato, qui stiamo vedendo alcuni personaggi che fanno da cameo, ce ne sono due. Quell'essere viola si chiama Parassita e quell'altro era Deadshot. Il nostro Cavaliere Oscuro vince sempre, picchia forte però. No, cosa vuole fare? Ah, per fortuna. E Batman ha vinto, un'altra volta. Ci scuseremo più tardi, io vi saluto, iscrivetevi al canale, commentate e mettete un mi piace.